Ciao qui Roberto Marchesini e in questo video ti voglio spiegare come puoi andare a creare un menu con immagini all'interno del tuo sito WordPress. Per fare questo andrai ad utilizzare un plugin completamente gratuito che puoi trovare direttamente sul directory ufficiale di WordPress. Questo plugin ti permetterà appunto di andare a creare un menu con immagini all'interno del tuo sito WordPress ma non solo questo. Infatti ti permette di andare a personalizzare proprio in modo completo tutte le voci che puoi andare ad aggiungere all'interno del tuo menu. Naturalmente se questi video su WordPress ti sono di aiuto ti invito a cliccare sul pulsante che trovi sotto a questo video e di iscriverti al canale di YouTube per non perdere i prossimi video che rilascerò in futuro. Detto questo io direi di passare alla parte pratica e vediamo come creare un menu con immagini per il tuo sito web. Ok allora il plugin che andremo ad utilizzare per questo video è Max Mega Menu ok? Come vedi è un plugin completamente gratuito che puoi trovare direttamente su wordpress.org. Come prima cosa naturalmente vado ad installarmi il plugin sul mio sito web quindi vado sul pannello di amministrazione di WordPress e vado sempre su plugin aggiungi nuovo. E qui naturalmente vado ad incollare il nome del plugin e me lo vado ad installare e ad attivare su questo mio sito ok? Ok ottimo ora come vedi il plugin è stato attivato. Se vado qui sull'home page del mio sito e vado a ricaricare la pagina come vede il menu non è ancora stato sostituito. Questo infatti è il menu di default che ho creato con il tema che ho installato su questo mio sito. Ad ogni modo per andare ad utilizzare il nuovo plugin che abbiamo appena installato devi andare qui su aspetto menu e qui sulla sinistra noterai questo widget qui ok? Qui non ti basta altro che andare a cliccare su attiva e su salva e qui naturalmente se vuoi puoi andare a modificarti alcune impostazioni del menu. Ad ogni modo per il momento clicca semplicemente su salva e vai ad aggiornare l'home page del tuo sito ok? Ed ecco qua e come vedi il menu è stato sostituito. Ora come puoi ben vedere anche tu il menu non presenta alcuna immagine ok? Perché naturalmente la devi andare ad inserire tu manualmente. Quindi devi andare qui sulle impostazioni del menu. Ad esempio ora sposto il mouse sulle voci prezzi e come vedi appare questo piccolo pulsante mega menu. Naturalmente appare anche sulle altre voci che sono presenti all'interno del menu come vedi. Ok? Ad ogni modo noi andiamo a cliccare su mega menu sulla voce prezzi quindi clicchiamo qui e per andare ad inserire delle immagini all'interno del menu devi andare a selezionare intanto la voce mega menu grid layout. Quindi clicchiamo qui e come vedi praticamente qui è stata inserita una nuova riga con una nuova colonna. Andando a cliccare su queste piccole icone può andare ad espandere o ridurre la colonna all'interno del menu ok? Ora spostando il mouse su questo menu a tendina come vedi praticamente da qui può andare ad inserire qualsiasi widget all'interno del tuo menu. Questa naturalmente è una cosa molto potente in quanto potrai andare ad inserire qualsiasi cosa all'interno del tuo menu. Quindi che sia testo, immagine, video o addirittura audio ok? Ad ogni modo nel nostro esempio ora andrò ad inserire un'immagine giusto per farti vedere come funziona insomma questo sistema. Quindi qui da questo menu a tendina vado a selezionare immagine e come vedi il blocco è stato inserito all'interno di questa colonna. Ora vado a cliccare su questa icona di modifica per andare appunto a modificare l'immagine. Qui se vuoi puoi andare a dare un titolo all'immagine. Io per il momento lascio questo campo vuoto. Vado a cliccare su aggiungi immagine e vado a selezionare ad esempio questa immagine qui ok? Vado ad aggiungere l'immagine al widget ed ecco qui la nostra immagine. Qui se vuoi puoi andare a dare un link a questa immagine. A me per il momento non mi interessa. Clicco su salva. Poi torno sulla mia home page e vado a ricaricare la pagina. Ed ora se sposto il mouse su prezzi ecco qua e come vedi la nostra immagine è stata inserita all'interno del menu. Ora come vedi l'immagine è abbastanza piccola ok? Se vuoi andare ad ingrandire semplicemente torni qui ok? Chiudi intanto questo widget e vai ad aumentare questa colonna qui praticamente. Quindi la andiamo ad aumentare. Ora non ti preoccupare che le modifiche si sono salvate in automatico. Puoi tornare qui sulla tua pagina e andare a ricaricare la pagina. Così insomma puoi vedere le modifiche se sono state apportate. E come vedi ecco qui che l'immagine si vede già molto più in grande. Naturalmente come ti ho fatto vedere può andare ad ingrandire o a diminuire l'immagine semplicemente andando a ridurre o ad aumentare questa colonna qui ok? Ora mettiamo caso che ti voglia andare ad inserire un video qui di fianco all'immagine ok? Ti faccio subito vedere come fare. È praticamente la stessa cosa di andare ad aggiungere un'immagine. Quindi ti basta andare ad inserire una nuova colonna semplicemente cliccando qui. Ok come vedi la colonna è stata inserita. Qui sulla destra naturalmente vai ad inserire il widget che ti permette di andare ad inserire il video. Quindi clicchiamo su video. Ora tenendo premuto il tasto sinistro del mouse vai a trascinare questo elemento sulla nuova colonna che abbiamo inserito. Come vedi ora l'elemento è stato spostato. Andiamo sulle impostazioni di questo elemento. Andiamo a cliccare su aggiungi video. Clicchiamo su inserirsi dall'url. E qui ad esempio ora vado ad inserire un video che ho pubblicato io su youtube. Quindi semplicemente vado ad incollare il link del video. Come vedi ecco qui il mio video ok? Lo vado ad aggiungere al widget. Perfetto. Clicco su salva. Poi torno qui sulla mia pagina e la vado a ricaricare. Se sposto qui il mouse su prezzi. Ed ecco qua e come vedi il video è stato aggiunto. Come vedi si vede proprio in piccolo. Quindi per andare ad aumentare la grandezza semplicemente vai ad ingrandire questa colonna. Ok come ti ho fatto vedere prima. Vai sempre ad aggiornare la pagina mi raccomando. Perché altrimenti le modifiche non riesci a vederle. Ed ecco qua e come vedi ora il video si vede molto più in grande. Questo insomma per quanto riguarda l'aggiunta degli elementi all'interno del tuo menu. Se invece ad esempio vuoi andare ad aggiungere un'icona qui di fianco al testo che hai inserito sul menu. Semplicemente torna qui sul pannello di amministrazione di Wordpress. Vai a cliccare su icon. E qui come vedi il plugin ti mette a disposizione davvero decine e decine di icone da andare ad inserire al tuo menu. Ad esempio andiamo a selezionare questa icona qui. Ok il cuore. E andiamo ad aggiornare sempre la nostra pagina. Ed ecco qua e come vedi di fianco alla voce è stata inserita la nostra icona. Ora questo per quanto riguarda insomma l'aggiunta delle voci all'interno del menu del tuo sito web. Ok come hai visto andando qui sulla relativa voce che vuoi andare a modificare ad esempio clicco su prodotti. Da qui praticamente puoi andare ad aggiungerti qualsiasi widget all'interno del tuo menu. E come detto questa cosa è molto potente perché questo ti permette di andare ad aggiungere praticamente qualsiasi cosa all'interno del tuo menu. Ad ogni modo ora vado a chiudere questa finestra. Ok e ora andiamo ad esempio su effetti. Come vedi attualmente è attivo l'effetto di solvenza ma se vuoi puoi andare a modificare questo effetto. Ad esempio mettiamo slide up e come movimento lo mettiamo come velocità media. Ok clicchiamo su salva e andiamo sempre ad aggiornare la nostra pagina. Se sposto il mouse sopra su prezzi come vedi ora la voce ha un nuovo effetto. Questo come hai visto lo puoi andare a modificare qui su questa voce. Ok naturalmente io ti ho fatto vedere giusto in questo video come modificare l'effetto ma tu insomma vai a scegliere quello che preferisci. Ora tornando sempre sul pannello di amministrazione di wordpress qui sulla sinistra è stata aggiunta la voce mega menu. Quindi andiamo a cliccare su mega menu e qui praticamente puoi trovare tutte le impostazioni di questo plugin. Io ti consiglio di andare ad esempio su menu teams e qui praticamente ti puoi andare a modificare tutto l'aspetto grafico che ha il tuo menu. Ok quindi ad esempio il colore di sfondo il colore che ti appare quando sposti il mouse sopra ad una voce. Ad esempio giusto per farti vedere ora come vedi c'è il grigio. Se vado qui e vado su barra dei menu e vado a modificarmi questa voce qui ok. Quindi vado a cliccare qui metto ad esempio il rosso giusto per farti vedere. Vado in fondo e clicco su salva le modifiche. Se vado a ricaricare la pagina vedrai che le voci saranno diventate in rosso. Eccoli qui. Come detto comunque da qui puoi andare a modificarti delle altre cose. Ad esempio puoi andare a modificarti come appare la barra del menu ok. Quindi sempre qui da background menu vai qui e ti puoi andare a cambiare insomma la barra del menu. Salvi sempre le modifiche. Vai ad aggiornare la pagina. Vedrai insomma che il colore verrà modificato. Quindi insomma da questa pagina puoi andare a modificarti tutto quello che riguarda l'aspetto del menu del tuo sito web. Ok questo è tutto per quanto riguarda l'inserimento di un menu con immagini all'interno del tuo sito wordpress. Se il video ti è piaciuto naturalmente iscriviti al canale di youtube e clicca sulla campanella per non perdere le notifiche di quando andrà a pubblicare un nuovo video qui su youtube. Con questo io ti saluto e spero di esserti stato di aiuto con questo video. Grazie. 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 Grazie.